La linea che ha preso la Commissione con Juncker e più recentemente è quella della flessibilità. In Italia alcuni governi ci hanno presentato come successo nazionale l'avere ottenuto tanti miliardi di flessibilità, magari riferita filosoficamente agli investimenti, ma spesa in bonus a scopo elettorale. Non è questo che noi e lei vogliamo dal patto di stabilità. Quindi non sarei minimamente scandalizzato, ma abbastanza lieto se lei, in caso di necessità, usasse il veto sul patto di stabilità. Ma non può andare là piena di veti, per cui sul MES io inviterei a una riconsiderazione, cerchiamo di essere seri. Quindi, anzitutto, e questo prescinde del tutto dalla riforma del MES, si ricorda che si era parlato del MES sanitario. Ebbene, l'Italia sta andando al bilancio, alla legge di bilancio che discuteremo fra poco, molto sguarnita in tema di sostegno al servizio sanitario nazionale. E quella è una possibilità molto ricca di prendere finanziamenti a scopo sanitario. Grazie a tutti.